Musica Fa un cazzo di caldo ci sono 30 gradi anche qui nella foresta Comunque io vi dico la mia sempre perchè sono un cacacazzo di merda Ma rendere pubblici tutti i vostri cazzi, le vostre faide da 16 anni Cosa che ormai purtroppo non siete più Non vi rende delle persone intelligenti Ma anzi E voglio dare un consiglio anche a tutte le persone che guarderanno queste storie Ma in generale non perchè sia successo a me questo periodo Però è successo ma non adesso Ma volevo dirvi che se avete un problema Alzate il telefono e chiamate quella determinata persona O prendetevi un caffè per affrontare i problemi Perchè così innanzitutto passate per cacasotto E due ovviamente si sa che voi fate sta roba perchè magari siete morti Cercate di resuscitare andando in hype con le vostre storie d'amore Le vostre faide Un po' triste Invece sarebbe così tanto bello Saper far qualcosa, avere un talento e tirarlo fuori Cioè cercate di tirar fuori da dentro di voi Il talento che sai se sei in cucina, del canto, della danza, del sesso Così Mi riferisco sempre anche al fatto che appunto purtroppo su YouTube Italia Ci sia un degrado della madonna A proposito di talenti Questo è il mio Fai che questa notte Io ti troverò bella bambina E ti canterò una canzogina Oh 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 Grazie a tutti.